Siamo con Luca Fiuzzi, man of the match della partita. Luca, tanto complimenti perché hai dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore. Tre espulsioni, il rigore è loro sbagliato, poi il tuo rigore è una partita incredibile. No, è una partita fondamentale. Venivamo da due sconfitte di fila, un periodo non bello. Oggi i punti erano d'oro, sono stati tre punti d'oro. Partita sofferta, magari non meritata, ma quello non ci interessa. Diciamo che è una partita condizionata molto dall'arbitro, soprattutto nei nostri confronti. Però ci voleva, siamo contenti del risultato. Adesso andiamo avanti, il mercoledì c'è un'altra battaglia da fare, anche se siamo un po' deficitati. Ma ce la faremo lo stesso. Ho visto dopo il gol che hai messo le mani al cielo a chi dedica il gol. Lo dedico a Breglia perché in settimana era il suo compleanno, quindi è giusto così. Grazie Luca, grazie.